Dio è l'assolutamente alto, il trascendente, influisce in maniera consistente, quindi prima di chiamare in causa Dio il mago ci pensa molte volte e preferisce utilizzare una serie di entità che siano entità intermedie, fra cui queste presenze angeliche. Naturalmente poi troviamo il tema angelologico, e mi avvio verso la conclusione del mio intervento, nel contesto del mondo New Age. Il mondo New Age, quella galassia dove si dice non è un movimento religioso, ma è casomai un network di tante persone che hanno delle tematiche in comuni, oggi si tende a parlare almeno in Italia di Next Stage, ho dedicato tanti studi a questo tema, di Next Stage come New Age, nuova era, prossima era, una svolta di tipo più individualistico. Ebbene, se vogliamo, all'origine del New Age stanno comunque delle particolari interpretazioni di realtà, tra virgolette, se vogliamo, angeliche, dicevano almeno i personaggi che sto per citarvi. La tradizione è una tradizione più antica, che parte appunto dall'Ottocento, quando con la società teosofica fondata da Elena Petrovna Blavatskaya e da il colonnello americano Ernest T. Lolcott, si incomincia a dire, ecco cosa diceva la società teosofica, sostanzialmente voleva creare un grosso ponte tra tradizioni esoteriche occidentali e tradizioni esoteriche orientali. Si incomincia a dire che i devas, cioè gli spiriti delle piante, gli spiriti della natura, in qualche modo comunicavano dei messaggi. Questi spiriti della natura, diciamo la visione, l'interpretazione di spiriti della natura continua nel 1962, quando viene fondata sulla scorta di idee che incominciano a circolare, che poi sono le idee fondative, se volete, del New Age, viene fondata una comunità a Findorn in Scozia. I fondatori di questa comunità si dedicano, anche per motivi di sopravvivenza all'agricoltura, hanno una visione però molto spirituale del mondo, per cui dicono noi interloquiamo con gli spiriti della natura, con le piante. Ci sono fotografie, queste sono fotografie che sono presenti nei volumi catalogati presso la nostra biblioteca del Centro Studi, dove si vedono dei piselli con dimensioni straordinarie, perché loro dicono ma il segreto dei piselli di grandi dimensioni è semplicemente che entravano in rapporto con noi. Nella visione fornita prima dalla società teosofica, poi sempre nel suo libro Angeli, la dottoressa Giovetti fa notare un passaggio, che è comunque complementare nella visione antroposofica di Rudolf Steiner, che però attinge molto dalla visione che vi ho citato della società teosofica, questi spiriti della natura, ebbene, sono molto simili, anzi poi nell'interpretazione c'è chi calca più o meno la mano nel contesto New Age, agli angeli. Naturalmente sono angeli un po' diversi rispetto a quelli della tradizione cristiana, stiamo parlando di spiriti della natura, e la visione del mondo è comunque una visione imperniata sulle varie forze cosmiche e dell'universo. Ma il New Age quando ha parlato in maniera consistente degli angeli, quando nel 1999, dopo che il 1997 era stato proclamato Anno delle Fate, ha incominciato a parlare dell'anno degli angeli. Angeli che erano, beh, questa era una manovra sostanzialmente di tipo commerciale, il New Age oggi dicono i suoi ideologi, è fallito perché si è rivelato non una grossa corrente spirituale, ma sostanzialmente una grossa bufala, dicono loro, commerciale, perché abbiamo trovato il libro New Age, i jeans New Age, la birra New Age, ma il grande messaggio del New Age, che doveva essere quello di un'età di pace e armonia universale, non si è trovato. Questo lo dicono esattamente i fondatori, i fondatori in senso stretto non si può parlare degli ideologi, diciamo, del New Age. Però il New Age ha segnato la spiritualità contemporanea e l'ha segnata anche dal punto di vista sicuramente dell'angelologia. Perché cosa ha fatto il New Age? Ha portato alla popolarizzazione di tematiche che erano a pannaggio di pochi. La società teosofica aveva delle visioni dottrinali molto impegnative, la società teosofica è presente ancora oggi, è presente anche in Italia, ma pochi fanno parte della società teosofica, perché la visione del mondo della società teosofica è assai complessa nella sua stessa interpretazione. Vi ho detto, nuovi movimenti religiosi fra i cittadini italiani, 1,92%, non è un caso. Il fenomeno New Age fa proprio da ponte fra i nuovi movimenti religiosi che vi ho detto e quel mondo del sacro selvaggio, del believing without belonging. Perché cosa fa? Popolarizza, io direi peggio, banalizza, delle credenze che un tempo erano a pannaggio di pochi, delle credenze esoteriche. Prendiamo il caso prima citato da Don Marcello, un signore di nome François-Bernand Termé, che firma i suoi libri con il nome del cherubino Aziel, firma appunto dei libri e cavalca, non senza semplificazione di datamenti rispetto alla tradizione storica, tematiche di derivazione cabalistica. Io insisto sul termine di derivazione cabalistica, perché la cabra è una cosa molto seria e impegnativa, è una tradizione colta, molto impegnativa, dove ci sono cattedre universitarie destinate solo allo studio della cabala. Chiaramente il cabalista impegnato nell'interpretare, abbiamo un medico, il tema della cardiopatia, capite che è una cosa che sfuggiva un po' agli interessi dei cabalisti, che avevano una visione molto più complessa del mondo ed era una visione spirituale, poi probabilmente si occupavano anche di malattie degli uomini, ma come tutte le persone. Ecco, il New Age porta esattamente a questo, un prodotto come quello, come i libri di Aziel, rappresenta una volgarizzazione nel senso di una popolarizzazione, di un portare al grosso pubblico tematiche che erano un tempo appannaggio di poche persone, gli esoteristi appunto. E' chiaramente da questo punto di vista, ed è su questo che si innesta parte del revaio valangelico. Oggi gli angeli ci sono, oggi gli angeli potremmo dire insieme a Dio che è tornato, abbiamo detto in apertura di relazione, sono tornati. Il problema è che tipo di angeli sono. Vi do un dato, un dato che vi do con un qualche dispiacere, nel senso che in preparazione di questo incontro sono andato a verificare varie statistiche e varie indagini, ottenute anche recentemente, sulle credenze degli italiani. E devo dire che ci sono delle domande specifiche, per esempio sulle credi nell'esistenza dei demoni, non ci sono le domande credi nell'esistenza degli angeli. E questo è un dato significativo da questo punto di vista, che personalmente nel mondo della comunità scientifica mi vorrei in qualche modo essere un po' il portavoce di questa esigenza. Perché di fronte ai dati, io l'unica cosa che ho trovato, che abbiamo prodotto noi come centro studi, è un'indagine del 1999, dove a domanda, ma credi nell'esistenza degli angeli, su un campione nazionale di media intervestati dai 14 anni in su, il 67,36% degli italiani dichiara di credere negli angeli, quindi 67,36%. Il dato scende al 59,02% tra chi è un'etra, comprese tra i 30 e i 60 anni, e sale, state attenti a questo, quindi 67% è il dato globale, 59,02% fra chi è i 30 e i 60 anni, sale al 71,07% tra i 14 e i 19 anni. 71,07% fra chi è più giovane. Per quanto riguarda i cattolici praticanti, il 70,24% dichiara di credere negli angeli. È un dato che non si discosta molto dal 67,36% che riguarda la credenza in generale. Quando si va a chiedere a un cattolico crede nell'esistenza degli angeli, rispondono di sì il 70,24%. Non è il 100%, ma la dottrina sugli angeli fa parte della tradizione della Chiesa. Certo, abbiamo parlato di angelologia delle alzate di spalle, e quindi questo è significativo. Ma mi vorrei un attimo soffermare su questo dato. Il 71,07% risponde, crede nell'esistenza degli angeli e sono ragazzi fra i 14 e i 19 anni. Questo cosa significa? Ci dice molto sulla qualità dell'angelologia oggi. Questi, proprio l'età giovane della credenza di chi crede in maniera più massiccia negli angeli, sta a significare che noi in fondo abbiamo a che fare con una credenza in angeli postmoderni. Sono angeli, cioè, tecnologici, non necessariamente cristiani. Potremmo dire se da un lato certamente la credenza e l'esistenza degli angeli è parte della fede della Chiesa, dall'altro gli angeli postmoderni sono in gran parte angeli New Age, quegli angeli che in parte abbiamo descritto. Sono angeli dei curiosi che si accostano alla tematica. Sono angeli frutto di letture di temi legati alla popola al caltor, cioè di grandi prodotti di massa, fumetti. Io presiedo un centro studi sulla popola al caltor per quale motivo? Perché la stessa cultura popolare, quella fatta di prodotti di diffusione di massa, film, fumetti, romanzi, ci dice molto su cosa la gente pensi relativamente a certe tematiche che sono...